Mentre da Roma si attende che alle parole del sottosegretario Gianni Lette segua un fatto concreto, cioè il rinvio della restituzione delle tasse non pagate nel periodo di sospensione post-sisma e l'abbettimento delle somme da rimborsare, all'Aquila inizia la mobilitazione. Il primo appuntamento è per oggi all'ora 15.30 davanti all'emiciclo dove in programma la seduta è il Consiglio regionale. I sindaci del cratere si raduneranno con le fasce e con faloni. Alla manifestazione hanno aderito praticamente tutte le associazioni di categorie, sindacati, partiti, istituzioni, associazioni culturali, comitati, cittadini. Il tutto mentre il commissario della ricostruzione Gianni Chiodi sarà di nuovo a Roma per capire quale possa essere la strada migliore per ottenere la proroga. Un decreto legge, un'ordinanza, un emendamento alla legge di stabilità. Anche la soluzione divide i rappresentanti delle istituzioni, vista anche l'instabilità politica di questi giorni. Per alcuni è preferibile il decreto legge che sarebbe immediatamente esecutivo e dentro 60 giorni e anche in assenza di un governo sarebbe ratificato dal Parlamento. Per altri sarebbe meglio un'ordinanza anche se in questo caso è necessario trovare, da qui alla fine dell'anno, la copertura finanziaria. L'emendamento al maxi emendamento alla legge di stabilità infine sarebbe blindato solo se il governo restasse in piedi, anche se per alcuni questa legge deve essere approvata a tutti i costi, anche quindi in assenza di un governo. Quello che serve insomma è un provvedimento che resista all'eventuale caduta dell'esecutivo. Spostare nell'ambito dell'anno temporalmente la scadenza in modo che non ci siano necessità di coperture economiche e quindi guadagnare qualche settimana necessaria per arrivare o al decreto o al maxi emendamento. Si parla adesso di ordinanza e bloccherebbe questa necessità alla quale siamo costretti come enti pubblici e anche come datori di lavoro di procedere al pagamento delle tasse già con la busta paga di novembre. E' chiaro che di questa ordinanza a noi non va bene se non è accompagnata sempre oggi, contemporaneamente oggi o domani quando sarà firmata, dovrà essere accompagnata la presentazione dell'emendamento al maxi emendamento che è in discussione al Senato perché altrimenti un'altra presa in giro vorrà dire che saremo costretti poi a Natale, Capodanno e l'Epifania a ristare nuovo in piazza. Grazie